Quali sono le motivazioni che hanno portato l'Assemblea Legislativa oggi a scegliere di commissariare gli ERSU? Sì, oggi abbiamo portato in consiglio questa proposta di legge, questa legge che ha presentato direttamente la Giunta per commissariare gli ERSU. La volontà politica di questa amministrazione è quella di procedere alla riforma degli ERSU e abbiamo ritenuto importante e fondamentale procedere al commissariamento perché riteniamo che sia il modo migliore per poter arrivare in fondo, cioè riuscire entro questi sei mesi perché ci siamo dati massimo un tempo di sei mesi per procedere alla riforma degli ERSU. L'obiettivo è quello di mantenere ovviamente un'autonomia dei vari ERSU e questa riforma la vogliamo fare per fare in modo che i servizi degli studenti vengano mantenuti ma anzi vengono migliorati. Soprattutto un'importante le prova dell'assessore ma che abbiamo preso veramente anche noi è quello di essere aperte, cioè quello di ascoltare le università, i ragazzi, le varie associazioni, ascoltare i vari enti locali perché riteniamo che questa riforma abbia bisogno di essere una riforma aperta, cioè che deve prevedere una partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.